Oggi è stata una giornata molto impegnativa, abbiamo avuto questo danno durante il pre-start della prima regata. Avevamo un M2, quindi una randa da ventoforte, più magra, che alleggerisce tutte le funzioni. Ci sono rotte alcune stecche, ci siamo ritirati, abbiamo cambiato randa con una diciamo round e le pressioni erano veramente altissime, quindi siamo andati a tutta per quattro giri. Beh è stata secondo me la regata più faticosa su questa barca in assoluto fino ad ora. Sinceramente dal punto di vista energetico non pensavo saremmo riusciti a rimanere davanti perché tante volte ci mancava olio per tirare le funzioni, tutti i carichi erano altissimi, con le vele piccole comunque hai necessità di mollare Cunningham per riaccelerare dopo le manovre e ovviamente ritirare tutto, quindi è stata veramente impegnativa. Sì ovviamente c'era una voglia forte di rivalsa perché eravamo tutti molto arrabbiati sia per la regata di ieri, che comunque è stata annullata, che per la prima regata di oggi dove ci sentivamo forti, abbiamo fatto tutto un warm up dove la barca andava veramente forte e questo danno abbiamo reagito molto bene come team, quindi siamo contentissimi.